Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, si torna di nuovo in aula domani ad Arezzo per il doppio femminicidio che avvenne in città in via Benedetto Varchi lo scorso aprile. Jawad Isham, 38enne magrebino, uccise moglie e suocera Sara Ruschi di 35 anni e la madre Brunetta Ridolfi di 76 con un coltello. La prima udienza lo scorso 14 ottobre durante la quale i due figli della coppia, entrambi minorenni, si sono costituiti parte civile. Il Tribunale, prima dell'avvio degli istruttori, aveva anche dichiarato inammissibile la richiesta di rito abbreviato, dunque per Jawad Isham sarà impossibile un procedimento con sconti di pena. Domani di fronte alla Corte verranno sentiti i testi, parleranno dunque il medico legale che ha effettuato l'autopsia e poi ancora la commissaria capo del carcere di Arezzo e due agenti della Polizia di Stato che intervennero quella notte. Tra l'altro al termine appunto di questa audizione dei testi era stata sollecitata da parte della difesa nei confronti della Corte la valutazione di una perizia psichiatrica in virtù del fatto che in cella l'uomo avrebbe avuto comportamenti deliranti e sarebbe in cura con farmaci, richiesta sulla quale ha espresso parere negativo l'avvocato di parte civile. Andiamo adesso in Valdarno, un esercizio commerciale vessato dai furti, sta pensando di chiudere. Siamo stanchi e pensiamo che a fine anno se non ci sarà una soluzione concreta anche da parte delle istituzioni e da Arezzo anche, ovvero della Questura o da un prefetto, toccherà chiudere. E' tanta l'amarezza e l'esasperazione dopo l'ennesimo ride al dinner café di San Giovanni Valdarno, il terzo colpo in poco meno di sei anni. I malviventi nella notte hanno forzato la porta d'ingresso sul retro, sono entrati e hanno rovesciato i cestini della spazzatura, svuotato cassetti, danneggiato il registratore di cassa e per finire aperto una bottiglia di limoncello. Abbiamo ricevuto una telefonata dai carabinieri San Giovanni Valdarno e ci erano avvertiti che c'è stata questa infrazione dentro la nostra attività. Siamo nudi qua e abbiamo visto tutti i danni che avevano fatto, sempre dalla stessa porta. che purtroppo telecamere non ce ne stanno perché ci sta una che va a coprire l'ascensore e due di fianco, una a destra e una a sinistra, però questa entrata è proprio quella più morta dell'attività. C'era chiesto più volte anche di avere una telecamera che riprendesse qui, però tocca sempre aspettare. Magro il bottino, di soldi ce n'erano pochi, ingenti invece i danni. I danni sono visti già così quantificati, già una bella cifra al confronto dell'altra due volte. Ci siamo rimasti, non siamo arrabbiati ma delusi perché già quest'estate abbiamo avuto anche atti vandalici, già presentati sia alla giunta comunale, al sindaco, che loro hanno provveduto a fare quest'estate un controllo dei vigili, anche notturno fino alla mezzanotte, però purtroppo dal mezzanotte in poi è quello che succede nelle cose più grandi. L'ultimo saluto a Jacopo Sciabolini, il 24enne che ha perso la vita in un incidente stradale a Foiano della Chiana, sarà celebrato domenica prossima 19 novembre dopo l'autopsia che è stata eseguita proprio oggi a Siena. La salva è stata restituita alla famiglia. Il funerale si terrà alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Foiano della Chiana. Intanto proseguono le indagini da parte della Polizia Municipale per chiarire la dinamica dello scontro. Si era trattato dello scontro frontale fra due auto, tra le possibili cause un tentativo di sorpasso, ma ovviamente come dicevamo sono ancora in corso le indagini. È stato nuovamente arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, guidati dal comandante Carmine Feola, il rapinatore che lo scorso 28 luglio aveva minacciato con un coltello due persone all'interno di una farmacia portarumana a Sansepolcro. L'uomo, residente a Pomezia in provincia di Roma, venne portato in carcere per poi essere liberato in attesa di ulteriori riscontri. Adesso invece è arrivata la prova del DNA e così anche l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, motivata dal fatto che il 45enne potrebbe reiterare appunto la sua condotta. Parliamo adesso invece di funghi perché ci sono già stati dieci intossicati nel territorio aretino e allora arriva di nuovo l'appello da parte della ASL appunto a rivolgersi agli esperti. Sono state già dieci le intossicazioni da funghi rilevate negli ultimi giorni dalla ASL, nulla di grave, ma alcuni cittadini si sono anche dovuti ricoverare in ospedale. E allora dalla ASL arriva nuovamente, era già avvenuto ad inizio novembre, l'appello a rivolgersi agli sportelli dell'ispettorato micologico. Negli ultimi due giorni, raccontano Daniela Donati e Carlo Gori, tecnici micologi dell'ispettorato, ci sono state varie intossicazioni in tutto il territorio. Alcune persone hanno necessitato di un ricovero in ospedale, quattro in Casentino, due in Valdarno e quattro ad Arezzo. Il nostro è un vero appello, rivolgetevi, dicono sempre all'ispettorato micologico, un servizio gratuito di controllo e al quale si può accedere senza appuntamento. Nei nostri centri è sempre presente un micologo che verifica se il fungo è commestibile o velenoso e anche se è troppo vecchio e quindi comunque da evitare per il consumo. Il caso della gattina Sibilla che venne uccisa a fucilate con una carabina d'aria compressa. Il cacciatore è stato condannato a sei mesi di reclusione. Il processo si è concluso con una sentenza di condanna per il cacciatore, più la condanna al pagamento delle spese legali, spiega in una nota l'Associazione Irriducibili Liberazione Animale ODB. Secondo noi, attualmente dicono, le pene per questo tipo di reati sono comunque esigue e attendiamo da tempo il loro inasprimento. Adesso parliamo di traffico. Oggi l'importante riapertura attesa davvero da tempo da cittadini e commercianti dell'incrocio di via Fiorentina. In estremi, semmai i lavori sono conclusi. Ieri sera hanno ritombato lo scavo, piazzato il pozzetto e stamani dovrebbero riasfaltare. Quindi i lavori conclusi al 100%. Tombato lo scavo, piazzato il pozzetto ed infine riasfaltato, il cantiere di via Fiorentina è così pronto per essere smantellato con la conseguente riapertura completa della strada. I lavori sono terminati a poche ore dalla partenza della città del Natale che apre il 18 novembre. L'impegno che personalmente io mi ero preso con i commercianti ma anche con i cittadini di prevedere lavori entro il tempo dell'ordinanza è stata rispettata. Sono soddisfatto. Quella appena ultimata era la fase relativa ai sottoservizi iniziata esattamente un mese fa. Il prossimo step sarà la rotonda vera e propria ma i tempi si allungono. Il prossimo step è ovviamente finito, a questo punto i lavori propedeutici e dovranno iniziare i lavori veri, quelli della realizzazione della rotatoria e quindi a quel punto insomma ora programmeremo, faremo passare ovviamente il periodo natalizio e poi programmeremo un po' tutta l'attività coinvolgendo anche ovviamente l'attività economica e i cittadini sui possibili disagi. Quella che viene da sempre chiamata la grande incompiuta, la Due Mari, come sappiamo nei mesi scorsi era stato sollevato il problema degli espropri, oggi se ne è parlato nella sala consigliare del Comune di Arezzo. Chi è espropriato rischia di perdere parte delle proprietà, parte dei giardini, rischia di avere un'infrastruttura che invade le proprie case. A me mi colpisce la vitazione. Lei è una casa recentemente ristrutturata che rischia di veder buttare giù. Esatto. Sposteranno una gabbina di trasformazione praticamente nel centro del nostro parcheggio e quindi noi non soffriremo più né del passaggio al parcheggio perdendone un'altra parte. In Comune erano presenti anche alcuni di loro, i cittadini, colpiti da esproprio. L'appuntamento con al centro il completamento della Due Mari nella sala del Consiglio Comunale era infatti aperto a tutta la cittadinanza. Un incontro che, partito da un presupposto, la Due Mari è una grande e importante opera strategica profondamente voluta dal Comune, ma che presenta alcuni limiti progettuali. Il Comune, come ente di tutela del territorio, del proprio territorio, ha voluto insieme ai cittadini portare avanti delle osservazioni che poi sono state portate in Consiglio Comunale e abbiamo approvato appunto una delibera all'unanimità, da poter produrre come documento in virtù della conferenza dei servizi a cui siamo invitati come ente per appunto evidenziare quelle che sono, secondo me, le criticità che ha l'opera in tutta la sua struttura. Ma vogliamo anche precisare che comunque, come amministrazione, non è che siamo contro l'opera. Anzi, quest'opera, soprattutto l'E78, è un'opera che questo territorio aspetta da tanto tempo e quindi siamo favorevoli, tant'è che la delibera si è divisa in due parti. Una parte appunto con esito favorevole, salvo qualche osservazione, sulla E78, ma poi una parte un pochino più critica per le due bretelle che hanno un impatto ambientale sui territori importante. Il ricorso al TAR, infatti, è per le bretelle, la prima, quella da San Zeno a San Giuliano, la seconda da San Zeno verso la strada regionale 71, strutture propedeutiche alla realizzazione del tratto a retino della Due Mari tra San Zeno e lo snodo di Olmo. Sono tutte osservazioni molto puntuali, molto tecniche. Per esempio, una delle più importanti, secondo noi, è quella della previsione di un sovrapasso che in uscita dalla E78 nell'area di Via Salvadori abbiamo chiesto che venisse stralciata questa previsione e venisse tolto questo sovrapasso, ma abbiamo fornito una piccola indicazione su una viabilità alternativa, secondo noi, molto migliore di quella. Ed è in programma per domani, sabato 18 novembre alle 15.30, presso l'oratorio Giovanni Paolo II a San Giuliano, la riunione per raccogliere firme e inviare un'osservazione al piano regionale dei rifiuti della Toscana che è già stato adottato. Tra gli argomenti è anche l'ampiamento del termo valorizzatore di San Zeno. Il termine ultimo per presentare le osservazioni sarà il 10 dicembre, scrive il Comitato, e sicuramente prima di quella data ci saranno altri incontri proprio per raccogliere più firme possibili. E torniamo a parlare di alluvione perché la Regione Toscana ha appena aperto nel suo portale un modulo proprio per segnalare i danni subiti. 50 milioni di euro di aiuti per famiglie ed imprese li ha stanziati la Regione Toscana per i danni dell'alluvione del 2 novembre scorso. 6 milioni di euro andranno alle imprese danneggiate a fondo perduto, 7 sempre a fondo perduto alle imprese agricole, altri 6 milioni sono invece destinati ai cittadini. Altri 6 milioni di euro serviranno poi per coprire gli interessi in caso di nuovi prestiti bancari per garantire liquidità alle aziende. Per le imprese che hanno subito danni ci sono altri 5 milioni per sostenere nuovi e ulteriori investimenti. Infine 20 milioni di euro verranno concessi tramite Fidi Toscana per offrire garanzie e prestiti. Le imprese danneggiate saranno poi agevolate nell'accesso al bando regionale da 125 milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo. Sono già stati pubblicati i moduli per le richieste da parte appunto di famiglie ed imprese. Sul sito della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it slash alluvione si possono scaricare i moduli per la ricognizione dei danni. Devolviamo il gettone del prossimo Consiglio Comunale alle popolazioni alluvionate. Questa è la proposta che è stata avanzata all'amministrazione comunale da Gerry Mugnaini del gruppo consigliare Alleanza per Bucci. Nella proposta dovrà essere votata nella prossima seduta consigliare. Parlando ancora di alluvione, una raccolta fondi proprio per aiutare le famiglie appunto colpite da questa tragedia è stata organizzata dalla Caritas. Non distogliere lo sguardo dal povero, è questo il titolo della giornata mondiale dei poveri che si celebra domenica 19 novembre. La Caritas diocesana e la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro per l'occasione hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare le famiglie e le attività della diocesi toscana colpite dall'alluvione dello scorso 2 novembre. Le raccolte avverranno presso le parrocchie tramite versamenti sull'apposito conto corrente intestato alla diocesi. Abbiamo bisogno di una giornata che ci aiuti a mettere a tema il povero e l'esigenza di accompagnarci al cammino dei poveri, ha dichiarato il Vescovo Andrea Migliavacca, un'attenzione da vivere non solo nella giornata celebrativa ma come uno stile di vita quotidiano, umano e di chiesa. Vogliamo vivere questa giornata anche nel segno di questa raccolta fondi per gli alluvionati della Toscana nel desiderio che il cammino possa coinvolgere tutta la comunità. È partito questa mattina con la figura di Fanfani spiegata ai ragazzi e agli studenti del liceo Redi di Arezzo il secondo ciclo di incontri di educazione civica organizzati appunto nelle scuole dall'associazione Intratevere e Tardo. Qual è il messaggio che Fanfani può lasciare a questi ragazzi? A quello della sua vita, integerrima, brusco, anche cattivo qualche volta ma assolutamente onesto, integerrimo, visionario. Fra l'altro autore della modernizzazione della città e anche simbolo di uomo che si è dedicato al proprio territorio e inoltre poi è stato uno dei primi alunni del liceo e quest'anno visto che viene festeggiato il centenario del Redi è anche attinente un po' a una festa in cui ai ragazzi li inserisce anche con un personaggio che ha avuto un notevole rilievo. A Redi si è così studiato Amintore e Fanfani. Nell'aula magna del liceo scientifico l'incontro Fanfani storico dell'economia è costituente nell'ambito della scuola di educazione civica promossa dall'associazione Tratevere d'Arno. Mi sembra un dovere di tutti noi e quindi anche mio di poter fare quello che si può fare per migliorare la convivenza sociale, semplicemente questo. A fare da cicerone nella vita di Amintore Fanfani agli studenti Franco Ciavattini, storico democristiano aretino, dirigente provinciale del Partito Popolare Italiano, ex sindaco di Badia Prataglia, nonché segretario del centro studi Fanfani. Oggi noi parliamo soprattutto perché questo è il tema di Fanfani storico economico e costituente perché prima ancora di intraprendere l'attività politica Fanfani è stato uno studioso molto attento di problemi di storia economica, ha insegnato all'Università Cattolica di Milano poi successivamente alla Sapienza di Roma e quindi ha tutta una storia importantissima sotto questo profilo. Naturalmente oggi poi ricorderemo anche alcune iniziative che ha fatto Fanfani come uomo politico e come uomo di Stato e di Governo. Parlerò di Fanfani intanto come ambientalista antelitteram, proprio perché nella sua attività soprattutto di Ministro del Lavoro, di Ministro dell'Agricoltura ha adottato costantemente tutta una serie di provvedimenti volti a salvaguardare l'ambiente. Parlerò poi di amianto di Fanfani, del piano casa e soprattutto poi parlerò anche di Fanfani dal punto di vista della politica estera perché in politica estera l'iniziativa di Fanfani è sempre stata di una straordinaria lungimiranza. E allora questi incontri come sappiamo saranno ripresi interamente e intanto mandati anche in diretta social durante proprio il loro svolgimento dalla nostra emittente e poi in onda come dicevamo nel nostro palinzesto. Questa sera appunto il primo incontro nel quale si parla della figura di Fanfani. Rinnovato il Day Hospital ematologico del San Donato di Arezzo grazie all'impegno dell'AIL, l'associazione contro le leucemie che come sappiamo è in ricordo dell'ex tennista Federico Luzzi. Arredi, computer, ecografi, strumenti medicali e tutto ciò che serve per accogliere al meglio i pazienti che frequentano il reparto. Insomma un Day Hospital ematologico completamente rinnovato. Perché entrare in una struttura un po' vecchia, con del mobilio vecchio, dell'aspetto quasi faticente, insomma una struttura che aveva più di 20 anni e che non era mai stata rinnovata, insomma non aiutava i pazienti ad affrontare le chemioterapie come dice lei col sorriso sulla bocca. Ora è più facile e è più facile anche per gli operatori. L'associazione AIL Federico Luzzi di Arezzo, nata nel 2009 per ricordare il campione di tennis prematuramente scomparso proprio a causa di una lucemia, ha deciso di investire 100.000 euro per migliorare l'accoglienza, il comfort e la funzionalità di questa parte dell'ospedale. È proprio per dare questa speranza, questo filo di luce alle persone che affrontano la malattia e che fortunatamente oggi col progresso della ricerca, sovvenzionato anche dalle donazioni dei nostri sostenitori, riesce a fargli avere speranze più rose per il futuro, è per questo che noi cerchiamo di aiutarli per farli stare meglio nel ricordo di questo ragazzo che ha creato un vuoto enorme nella nostra famiglia, nei nostri cuori, però sopravvive in ricordo di una cosa che aiuta il prossimo a 360 gradi. Il segnale di oggi non è soltanto una donazione in termini materiali, c'è molto di più, c'è la costruzione di un rapporto di fiducia, c'è un'alleanza che viene ad essere sottolineata ed alimentata e questo è motivo di gratitudine e di orgoglio. Il reparto in media effettua ogni giorno 30 prelievi di sangue, 3 biopsie del midollo osseo e nel corso della giornata circa 20 terapie su letti e poltrone. ha in carico circa 600 pazienti ed effettua 5.000 visite all'anno, preziosa la collaborazione con AIL. Stiamo lavorando per dare all'ematologia un volto nuovo, più fresco, purtroppo frequentato da persone che non stanno bene, quindi un posto bello, arioso e luminoso fa bene allo spirito. Mark Ramone ha acquistato una casa nel centro storico di Castiglion Fiorentino, prima ha fatto il turista, afferma il sindaco Mario Agnelli e adesso il batterista americano dei Ramones Mark Stephen Bell, in arte appunto Mark Ramone, è tornato a Castiglion Fiorentino ma come dice appunto Agnelli nella sua nuova casa. Il primo incontro proprio tra l'artista americano a Castiglion Fiorentino avvenne nel 2021 quando partecipò all'iniziativa musicale organizzata dal DJ Ringo sulla Torre del Cassero in memoria di Chiara Meoni, figlia dell'indimenticato campione della Dakar Fabrizio Meoni. E parliamo di sport, domenica al Palasport Estra ritorna la sfida con il basketball club Lucca. Gli Amaranto proveranno a ritornare al successo davanti al pubblico amico. i biancorossi lucchesi sono stati ammessi a partecipare al campionato di Serie B con alla guida il nuovo tecnico Olivieri e si stanno ben comportando fino ad ora con otto punti in classifica, due in più dell'Amen BC Servizi. Inizio alle 18 al Palasport Estra di Arezzo. Ed infine chiudiamo con una notizia che riguarda il mondo dei motori. Stefano Marrini ha un passo dal podio mondiale Cross Country Bias. L'esperto pilota è tornato sulle dune del deserto per affrontare la dura prova della Dubai-Baya International 2023 dove ha rinnovato l'equipaggio con il navigatore Silvio Valentini con cui è riuscito a piazzarsi davanti ad avversari che arrivavano da tutti i continenti a risultare tra i grandi protagonisti appunto della manifestazione. La coppia aretina ha dimostrato preparazione, resistenza e capacità necessarie proprio per affrontare le insidie appunto di una gara di questo genere. Hanno chiuso con un quarto posto nella categoria T4 e un tredicesimo posto invece nella classifica generale. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Noi vi lasciamo con il primo incontro di educazione civica promosso da Intratevere Tarno nel liceo Redi di Arezzo, liceo scientifico, è stata spiegata, comunicata, insomma raccontata la figura di Fanfani appunto agli studenti. Grazie per l'attenzione, arrivederci.